Ancora una volta quando il Calcit chiama, gli aretini hanno dimostrato di essere pronti a rispondere, non solo per i mercatini o i giochi dei nonni, ma anche per la camminata 6 alle 6 con colazione da leone. La gara non competitiva con due giri per la città, dove i più esperti hanno optato anche per il secondo giro. Molte le offerte raccolte per un totale di 2.630 euro che saranno destinate al progetto scudo di cure domiciliari per i pazienti oncologici. Un progetto realizzato grazie alla Polistica Rezzo con partner Forte dei Marmi per le t-shirt dei partecipanti, Leone Caffetteria per la colazione offerta ai corridori. Insomma, una bella giornata che ha visto trionfare ancora una volta i sani stili di vita promossi dal Calcit e la solidarietà verso il comitato presieduto da Giancarlo Sassoli.